La Sagra della Polenta di Monterchi è una delle feste più importanti della provincia di Arezzo. Da oltre 30 anni la Presidenza aveva portato avanti questo sodalizio, però alle ultime votazioni, proprio domenica scorsa, c'è stato un cambio della guardia. Siamo con il nuovo Presidente, Luca Fabriciani. Che cosa è accaduto? È accaduto che alle elezioni di domenica si è presentata un'unica lista di 15 persone, che tra l'altro è stata votata con una grandissima affluenza, quindi oltre 120 soci ci hanno dato la loro fiducia. Questa lista si compone per la metà di vecchi consiglieri, per la metà di giovani. Vogliamo portare avanti la tradizione e portare anche però un po' di innovazione. Soprattutto vogliamo coinvolgere le altre associazioni di Monterchi, ci vogliamo aprire al Paese, quindi siamo a braccia aperte ad aspettare l'aiuto e il contributo di tutti. Quello che tutti si chiedono, ovviamente, quest'anno ci sarà la Sagra? Sarebbe il nostro più grande desiderio poter rispondere di sì. E chiaramente faremo di tutto per cercare di riproporre qualcosa. Non vogliamo ancora dire di no, chiaramente non dipende da noi, dipende dalle condizioni generali. Quella di questa sera è la prima riunione del vostro nuovo consiglio? Sì, è la prima riunione, l'insediamento, quindi ci saranno le nomine e soprattutto ci sarà anche un primo impegno che voglio annunciare qui che è un aiuto, un sostegno, un contributo che daremo alla misericordia locale che ha acquistato, sta acquistando un nuovo mezzo assistito e vogliamo cominciare a far sì che tutto quello che la Proloco fa e che la Proloco guadagna abbia una ricaduta sul Paese. Grazie a tutti.